Buongiorno, il brano che il Vangelo oggi ci propone dal capitolo 16 di Matteo, i versetti dal 13 al 23, racconta un passaggio decisivo nel percorso dell'Evangelista Matteo a riguardo del cammino di Gesù fra di noi, della sua rivelazione come figlio di Dio che si fa servo, che offre la sua vita per salvarci e anche come rivelazione della vita di un discepolo, in particolare di Simon Pietro. Vi ha infatti nel racconto la domanda cruciale che Gesù pone ai suoi e che arriva anche a noi come un dardo che sprofonda nel nostro cuore e ci interpella. La gente chi dice che io sia ma soprattutto voi, dice Gesù, chi dite che io sia? La domanda che rivolge a ciascuno di noi appunto questa, ma tu chi dici che sia Gesù? Chi è Gesù per la tua vita? Pietro risponde a nome di tutti, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, ma la risposta che porta Gesù poi a rivelare a Pietro stesso la sua identità di capo della chiesa, lui che è il primo fra i discepoli, lui che si chiamava a Simone e che Gesù stesso ora chiama Pietro, generando nella rivelazione del nome un'identità, lui che ne fa una roccia, ecco Gesù stesso poi chiama a Simon Pietro a scoprire la verità di quello che gli è stato mostrato, perché essere discepolo del Maestro e Signore e del figlio del Dio vivente significa percorrerne la stessa strada, calpestare le stesse orme, rivisitare le tracce che gli semina nella nostra storia e sono tracce che Gesù stesso rivela segnate dal dolore, dalla sofferenza. Dopo aver raggiunto infatti l'apce della manifestazione della propria gloria, dopo essere stato riconosciuto come figlio di Dio Gesù annuncia per la prima volta la sua passione morte e resurrezione e Pietro non capisce, fa resistenza, rifiuta di dover fare i conti con il dolore e la sofferenza, non accetta che il Signore possa essere uno sconfitto nella storia, che si debba passare per il fallimento e la morte prima di conoscere la vita vera. Simon Pietro ancora non capisce ed ecco che Gesù lo invita a porsi nel giusto posto, alle sue spalle. Va de retro significa va dietro di me e sebbene lo denomina Satana non lo sta in questo momento condannando ma gli sta mostrando il luogo dove ogni discepolo deve stare per poter diventare davvero quello che è chiamato ad essere. È Gesù che fa la strada, che apre il cammino, che mostra la direzione a Simon Pietro, alla Chiesa, a tutti i discepoli, a ciascuno di noi, anche oggi, il compito di ripercorrerne i passi, passi della croce, passi della sofferenza, della vita donata, ma per arrivare a una vita risorta, che è la promessa che si compie per tutti. Buona giornata.